Zovincedo, blitz notturno dei carabinieri di Barbarano Mossano che arrestano in flagranza di reato un 64enne accusato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato quasi 4 etti di marijuana essiccata, 160 grammi di marijuana da essiccare, 8 piante di marijuana in una serra artigianale e altre 9 nell'orto, nascoste tra i pomodori. Grazie.